Secondo me è una partita non facilissima, loro hanno messo tutto perché per loro comunque era una partita importante per la salvezza però siamo stati bravi nei momenti verso la fine a chiudere sempre i set e secondo me abbiamo fatto un po' troppi errori quindi errori dobbiamo eliminare però brave per il risultato e per altri tre punti. Secondo me cariche, è il momento più bello del campionato i play-off quindi siamo pronte dopo questa vittoria hanno avuto spazio anche altre giocatrici quindi tutta la squadra è pronta e non vediamo l'ora.